L'errore al rimbalzo, il pallone è per Parks, 7 secondi, 6 secondi, Parks va in controvinto, ancora Parks, Canesco, Canesco di Parks, a 2 secondi. Para Parks, infatti arriva Parks, si alza da lontanissimo, 3 secondi e 94. Il pallone è per Parks, il raddoppio, 2 secondi, Parks deve tirare Canesco! Il pallone è per Parks, il tiro contro Parker, è quella, ero di Parks! Let that stage light, going shine on down, got that boss, ecco qua il tiro da 3 di Parks! Si va da Parks, Parks per ammazzare la partita! Passo, Moschio che ne approfitta, fade away di Robin Parks! So they balls out here, now they can't tell me nothing, we give that to the people, spread it across the cross. Parks, che prova a giocarsela, uno contro uno, Canesco! Anche Parks, 12 secondi, 10 secondi, 9 secondi, ancora Parks, attacca, fa saltare l'avversario! Canesco! So we put our hands up, like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us, can we go back? This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up, like the ceiling can't hold us! Now, can I kick it, thank you, yeah, I'm so damn grateful, I grew up, really wanna go old friends, but that's what you get when Wu-Tang raise you, y'all can't stop me, go hard like I gotta hit away than my heartbeat, and I'm eating at the beat like it gave a little speed to me, and I'm eating at the beat, like it gave a little speed. Nervi Ciudel non vuole tirare, Parcs da tre! Il gioco di prestigio da parte di Parcs è penetrazione! Parcs, balla attivo dalla media, Parcs! Poi si va ancora da Parcs, se la sente? Robin! Parcs! Perry giù, si va da Parcs, Parcs! Perché fai questi canestri? Ma lo chiedo da quanto sei arrivata! Parcs contro Barberis, il palleggio insistito per la numero 24! Canestro più fallo! Anche lui, si va da! E' un po' di rinforza! E' un po' di rinforza! Facciamo bene! E' un po' di rinforza! E' un po' di rinforza! E' un po' di rinforza! Grazie.